L'evento è stato rinviato a causa del maltempo, in quanto i giorni prima c'era stata un'allerta meteo arancione. Il fatto è che questo evento non è che si organizzi in 15 giorni in un mese per rientrare nei raduni o anche nei concerti, quindi l'abbiamo posticipato a diversi mesi. La posticipazione quindi ci ha messo di fronte a delle spese aggiuntive, cosa che noi non riusciamo a sostenere, cosa che non ho trovato la partecipazione più di tanto dal mondo, diciamo dal territorio, senza scendere nel particolare. Sollecitati da altre città che ci chiedono di promuovere il loro territorio con questa manifestazione ci sta ormai convinto a trasferirci in un'altra regione. Quale sarà il luogo destinato appunto poi nello svolgimento dell'evento? Inizialmente abbiamo provato a organizzarla per l'8 settembre, ma abbiamo visto che non c'è un contesto possibile per organizzarla. Noi siamo ad alcune, abbiamo preso già dei contatti, ne stiamo discutendo, anche ieri ne abbiamo parlato. Io ancora non mi sento di dire qual è la città dove andremo, però dico solo che è una città della Romagna con una vocazione turistica molto più alta della nostra, dove hanno interesse a questo tipo di manifestazioni, ma interesse mi risulta che ce l'ha anche Pesaro, che se non erro il 17-18 fanno la prima edizione di una manifestazione molto simile alla nostra. Quindi anche per i prossimi anni Fano verrà esclusa? Ah sì, ormai fanno chiuso. Non ho più neanche gli stimoli. Ah, qua vorrei approfittare. Io l'altro giorno ho messo un post su Facebook in quanto molti mi chiedevano quanto le nuove date, scrivevano ciao, pedo, quando è che la rifacciamo. Ho sentito il dovere di scriverlo senza polemizzare, solo per avvisare tutti quanti. Sono contento, sono molto felice della vicinanza dei fanesi e dell'attaccamento che c'era per questa manifestazione. Quindi ringrazio tutti quanti.